Il porto di Salerno è un modello di efficienza, di capacità, di programmazione. Non costa nulla lo Stato che invece riceve dal porto stesso attraverso IVA ed accise ben 13 miliardi di euro. E' chiarissimo, il presidente di Confindustria Salerno, Mauro Maccaoro, che in un incontro svoltosi proprio nella sede di Confindustria Salerno, ha espresso le posizioni della comunità portuale salernitana in relazione alla recente proposta di riforma della portualità avanzata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, che prevede l'accorpamento del porto di Salerno a quello di Napoli. Durante l'iniziativa è stato illustrato il documento inviato proprio dal ministro Lupi per Maccaoro. E' necessaria una riforma che si basi su un sistema di premialità che valorizzi le performance di funzionamento degli scali, le best practice già esistenti e tenga conto delle singole peculiarità dei territori. Nell'esprimere poi la propria preoccupazione per l'eventuale rimedimensionamento del porto di Salerno, Maccaoro annuncia che saranno messe in campo azioni sinergiche tra gli operatori economici e le istituzioni per scongiurare iniziative che mettano ulteriormente a rischio la nostra economia, già pesantemente colpita dalla crisi. Non è una questione di campanilismo, non è una questione di contrapposizione, ma è semplicemente un affermare un principio. E' necessario che i porti che devono mantenere la loro autonomia siano quelli più efficienti. Il sistema confindustriale salernitano si unisce da questa mattina a un coordinamento dei sistemi confindustriali, nel caso specifico dell'alto tirreno, Piombino, Savona, La Spezia e altre associazioni che hanno il peso del porto nella loro città, per un'azione comune per cercare di correggere quella che è una legge che non è ancora legge, una modifica che non è stata ancora fatta, e far capire che la demagogia della spending review può servire per altro, ma non bisogna intaccare quelle che sono strutture che funzionino. Anche perché il sistema manifatturiero salernitano è un sistema manifatturiero che si regge, penso per esempio all'agroalimentare, sulla funzionalità del porto. I numeri parlano chiaro, per il porto di Salerno afferma il presidente di Assotutella Agostino Gallozzi, che si conferma il più consistente sistema impresa della nostra provincia, anche per numero di occupati. Il suo ragionamento è che vanno premiate e vanno esaminate le autorità portuali rispetto a un livello di performance di eccellenza, e non soltanto sulla base di ragionamenti che peraltro sanno molto di vecchio, perché riportano alla memoria i vecchi enti portuali, che proprio la legge 84-94 lo vuole smantellare, enti pubblici che hanno creato nei porti italiani all'epoca dei disastri anche dal punto di vista dei deficit gestionali. Accentrare e fare un passo indietro, come viene proposto, significa creare più burocrazia, creare più procedure e quindi allontanare la capacità di reazione del porto rispetto all'esigenza del mercato, di fatto creare meno competizione e non è ciò di cui il Paese ha bisogno. Sulla vicenda ci va duro anche il parlamentare Fulvio Bonavittacola. Io credo che uno dei vizi di questo nostro Paese sia rincorrere le mode. Adesso va di moda tagliare, sforbiciare, accorpare, ridurre. È vero che una politica di rigore impone di non conservare necessariamente tutto quello che c'è, ma la politica di rigore deve puntare a rendere un sistema più efficiente. Accorpare Napoli e Salerno non è una scelta di efficienza, è la scelta della muina, diremmo noi, del casino, cioè di creare soltanto uno stress istituzionale, operativo per anni, senza alcun risultato.